Purtroppo nel Cilento continuano a salire i contagi. Ad Agropoli, Castellabate, Montecorice e Capaccio ancora una volta si registrano nuovi positivi. A comunicarlo ai sindaci dei rispettivi territori attraverso il report serale dei dati. Ho ricevuto comunicazione dall'ASL di quattro nuovi positivi, ha detto il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Due fanno riferimento a casi del passato, altri due invece sono situazioni nuove. Nel contempo ci sono cinque guariti che sommati alle guarigioni precedenti porta il totale guariti a 46. I positivi attuali sono invece 45. Due nuovi casi di contagio da Covid-19 anche nel comune di Castellabate, contatti diretti in isolamento da giorni di una persona già risultata positiva. Registrate anche quattro persone guarite dal virus. Queste le dichiarazioni del sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri. A Montecorice invece un nuovo cittadino positivo si registra, che porta il numero di positivi a 13, con 98 persone in isolamento fiduciario. Anche la città di Capaccio Pestum purtroppo nella giornata di ieri registra un aumento dei positivi, quattro in nuovi positivi e tre cittadini guariti. Si aggiorna così a 70 il totale degli attuali positivi nella città dei Templi, con 130 persone complessive in isolamento domiciliare e persone guarite dal virus.